Mini recinzione richiesta tramite donazione Patreon da Franco Mazzoni, che mi chiede di parlare del film del 2008 di Ryukei Kitamura, The Midnight Meat Train, ovvero macelleria mobile di mezzanotte in Italia, prossima fermata l'inferno, con protagonista Bradley Cooper insieme a Vinnie Jones ed a una stupenda ancora Brooke Shields. La storia è questa, Bradley Cooper fa un fotografo che vuole fotografare la realtà della città. Fa il suo book di foto, va da Brooke Shields, che è appunto questa gallerista, che gli dice ha un grande talento, ma dovresti andare ancora più a fondo. Allora il nostro decide di infilarsi in metropolitana e fare le peggiori foto che possa fare, nel senso le migliori, ma su qualcosa di cattivo e realistico della città. Quindi un giorno salva una ragazza, mentre fa delle foto da quasi uno stupro di questi che scappano, perché c'è le telecamere, la ragazza monta sul treno e lui la mattina dopo si rende conto che la ragazza è scomparsa, una modella famosa, e lui quindi va a cercare degli indizi e trova la storia di questo strano macellaio che di notte si veste in giacca e cravatta perfetta col suo martello, monta sul treno una valigetta e poi la gente scompare dall'ultima corsa. E di lì tutto, insomma, la trama del nostro che vuole scoprire cosa c'è sotto e sarebbe stato meglio per lui di no. Tratto dal bellissimo, bellissimo racconto di Cliff Barker, grande scrittore inglese che dovreste tutti conoscere, solo per aver scritto Cabal e i libri di sangue andrebbe messo su un piedistallo, un grandissimo scrittore che purtroppo ha avuto poca fortuna col cinema nonostante il suo Eraser fosse un capolavoro e tutto il resto. E in questo Mid-Man 3 Kitamura tira fuori tutto il suo voglia, il suo modo di girare il cinema in maniera cinetica, violenta. Lo splatter e il gore a livelli alti, molto alti. Abbiamo anche una bella cameo di Ted Remy. In più il nostro riesce a costruire perfettamente la tensione, nonostante il film abbia un ritmo molto spedito, però riesce a dilatare i tempi, modello in maniera cicocchiana, con giusti rallenti, con dei momenti di silenzio che poi ci fanno creare questo terrore che poi quando arriva l'orrore siamo in uno stato ormai già preparato e quindi la condizione è perfetta per prendere paura senza dover sobbalzare ma dalla situazione. Quindi uno che usa benissimo la conono sonora, gli attori sono diretti alla stragrande, Freddy Cooper qui ci dava dentro e soprattutto era grandissimo Vinny Jones con quella faccia completamente assurda. Poi chiaramente più line va e più noi scopriamo quasi da subito che questo macellaio prende ammazzate nel viso e fa a pezzi la gente per arrivare all'ultima fermata e portare i corpi. Non si sa dove questo non ve lo sto a dire perché magari questo grande film di Kitamura l'avete visto perché per me questo è un cult assoluto degli anni 2000, uno dei migliori horror indipendenti del XX secolo, è fatto benissimo, girato da Dio con un budget bassissimo, montaggio fantastico come al solito con Kitamura, movimenti di macchina perfetti, piano sequenza carrellate, il nostro non si ferma mai eppure sa quando è che la macchina ferma e quando muoverla lentamente per farci entrare in paranoia. Quindi per me un racconto fantastico portato sullo schermo benissimo da un Kitamura che dimostra un'altra volta di essere un regista di grandissimo talento e che gira tutti, passa da Azumi a questa No One Lives, girando Godzilla 2000, Tut Versus, tutti i suoi generi, pochi soldi, tanti soldi e riesce comunque sempre a tirare fuori il talento che ha specialmente nelle scene movimentate, nelle scene splatter che gestisce da Dio. Un film anche che ha un'ironia nerissima e un finale come ho detto cattivo, molto cattivo ma che in realtà è l'overcraftiano fino in fondo, anche perché Barker è chiaramente leggendo i suoi libri e vedendo i suoi film, l'overcraft si capisce che è più o meno la base prima dalla quale è partito anche per le sue scritture e quindi per le sue trasposizioni cinematografiche. Quindi finale bellissimo che non piacerà sicuramente a molti puristi che vorranno chissà cosa, invece a me quel finale mi è piaciuto da impazzire, mi ha ricordato il finale del pezzo di, mi pare di Yuzna e del Necronomico in cui l'ho fatto a tre con Guns e all'altro e insomma per me è un film bomba, per me questo film non è sicuramente un capolavoro ma è un grandissimo horror, uno di quelli che fa paura, diverte, va via veloce e che guarderesti una volta a sera proprio perché riesce ad essere completo e anche abbastanza complesso riguardo il voyeurismo, riguardo anche la pazzia, riguardo anche la ricerca dell'arte attraverso la morte. Un film a tratti eccezionale, a tratti divertente e quindi un buon film che qui sotto metto il link spero sia ancora disponibile perché secondo me ogni amante dell'horror non può farselo assolutamente scappare, primo perché è una riduzione di Barker, due perché è fatta benissimo, tre perché Kitamura dimostra un'altra volta di essere un regista che quando gira qualcosa ci mette la sua firma, lo riconosciamo subito dopo 3-4 minuti. Quindi che dirvi di più, ripeto il link è qua sotto, iscrivetevi al canale, mettete mi piace se vi è piaciuta la rivini recensione, se vi piace il film, donate su Patreon se volete avere anche voi un piccolo video come questo e insomma più che altro non vi perdete questo Midnight Meat Train, ovvero libro macelleria mobile di mezzanotte in Italia, trasformato ancora come titolo per il film in prossima fermata l'inferno che seppur non combinandoci quasi nulla con l'idea di Barker però alla fin fine un senso lo ha.